Ludovico Viviani, eletto al Consiglio Comunale di Menfi con 677 preferenze, si è dimesso questa mattina da consigliere comunale. Rimane in giunta, lui è vice sindaco della giunta guidata da Marilena Mauceri e questa mattina il sindaco Mauceri, lo stesso Viviani e gli assessori della giunta hanno tenuto una conferenza stampa e il sindaco ha sottolineato che lei non cambierà la sua giunta per tutti gli anni del mandato. Ascoltiamo il sindaco Mauceri. Assolutamente sì, è una prerogativa di questa amministrazione. Come sapete in giunta ci sono questi 4 e 3 assessori, tra cui i 3 sono stati designati in periodo della fase elettorale. Tra l'altro io come designato sindaco avevo portato avanti l'idea e comunque condivisa tutta la squadra che il suo ruolo oltre ad essere assessore sarebbe stato di vice sindaco. Sono degli accordi preelettorali che io apprezzo insieme a tutta la giunta, tutta la squadra che formate anche dei consiglieri, che il nostro assessore vice sindaco, Duico Viviani, non sta avvenendo assolutamente meno agli accordi preelettorali, sta dimostrando la sua maturità politica, cosa che tutti porteremo avanti perché questa amministrazione non vuole altro che amministrare con il senso del dovere, il senso dell'amministrare per il bene della comunità. Lei Viviani non lo rimuoverebbe mai dalla giunta? Né Viviani, né l'assessore Saverio Aldizzone, né l'assessore Nadia Curreri, Nino Lipetri, assolutamente no. Ludovico Viviani chiaramente ha colto di buon grado la decisione del sindaco, ha parlato di una scelta che era già stata assunta dall'intera coalizione già nei mesi scorsi. Al Consiglio Comunale di Menfi entra Dino Gagliano, che è avvocato e che è il primo dei non eletti della lista Siamo Menfi, che ha sostenuto l'elezione a sindaco di Marilena Mauceri. E chiaramente i riferimenti anche da parte di Viviani alla situazione che si è determinata invece a Sciacca con Filippo Bellanca, che invece è stato eletto al Consiglio Comunale, che si è dimesso da consigliere e che a quanto pare non verrà confermato nella giunta Valentibis. Io ho avuto la garanzia da parte del mio sindaco che non verrò rimosso per tutti e cinque gli anni. Quello che succede a Sciacca, sinceramente, non sono abituato a dare giudizio sui paesi limitrovi. Sono dinamiche diverse e sono logiche diverse rispetto a un paese che ci ha votati, soprattutto perché abbiamo dato a pensare alla nostra gente che poteva essere fatto in un modo diverso di amministrare la città. Oggi io do l'esempio, l'esempio che deve essere eseguito, probabilmente sarà seguito dall'intera coalizione. Abbiamo cinque anni davanti, la campagna elettorale è finita. Ho ottenuto un risultato eccezionale, sulla campagna elettorale ho capitalizzato quasi 700 voti, immeritati, dico io, ma così sono i numeri, questi sono i numeri. Oggi io mantengo l'impegno dato in campagna elettorale. Grazie.